e ragazzi benvenuti benvenuti su mio canale io sono magnus oggi stiamo qui su vampire the masquerade walk song uscito da qualche giorno è uscito praticamente ieri noi lo proviamo su pc è un gdr narrativo che ha ricevuto giudizi parecchio contrastanti per cui ero curioso di trovarlo partiamo la corte di boston nel suo buio è stato emesso un codice russo di alarme questo significa che ha avuto un luogo una grande crisi e men l'esa e galeb sono convocati dal principe i vampiri il cammino tra di noi per saperlo abbiamo costruito loro la loro città con tutte le loro guerre e si atto la loro fa per secoli queste che si sono organizzata in sette rivali la più grande delle quali è la camarilla nei loro domini le corti della camarilla fanno rispettare la masquerade una situazione globale che nasconde l'esistenza dei vampiri al mondo mortale talia la masquerade è punibile con la morte ultima abbossano le frazioni dei vampiri insieme dal tempo ai ferri corti dopo molti conflitti asel iverson il nuovo principe ha segnato una facile patta con un gruppo di stregoni del sangue conosciuto come la cappella di herford questa alleanza non solo dà la stabilità al dominio ma garantirà al principe il commercio di sangue il traffico di sangue e di vittime mortali che soddisfa le esigenze della rite vampirica stasera i non morti festeggeranno obbligato la narco niente 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 la cazzo dovrebbe essere abbastanza intrigante come idea did you feel it too take your stuff we're getting out of here we've got a problem call them back what's going on it's the prince we must go quickly facciamo un sorsetto so they finally accept and then bam a code red there's never been a code red in boston dammit this has got to be bad a man all'uso delle tue abilità to live the abilità viene contrapartato con quella del tuo avversario vince chi ha il punteggio più alto usare un'abilità consuma volontà l'avversario vince guadagna un po' di volontà alla fine del dialogo ok Sì 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 è stata con un'ascensore? eh sì adesso è partito abbastanza cauto anche se fa pensare a tanta roba però come storia parlo eh no la gente è instabile è tutto ok mamma? penne per le pensate? niente Pumkin cosa dicevi? vedi foto di nuovo? non stai tornando all'instituto no non fred sto qui con te non mi piace quando richard ti prende è il mio psichiatrist è mi aiuta mi aiuta per essere con te mamma ha un piccolo a volte ricordi? vedo cose che ancora non succedono e mi ricordo altri sì, lo so e hai bisogno di sfrutare per che puoi restare a volte ma tre anni è troppo lungo ma ora stiamo insieme stiamo stiamo inseparabili come due pees in un pod sì esatto mamma cosa succede? stai 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 non ho visto Richard ho cercato per lui ma non è non è stai 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 e la mia madre ha bisogno di parlare con loro oh allora farò farò se se vuoi se non 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 ok qui non 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 la non quando hai fuori? proprio doggone che lo che che voleva vedere me significa che lei è molto preoccupata questo o che lei è un grande dramma o che lei è un grande dramma non dovresti rendere la situazione credi me non ci sono molti di noi che hanno avuto un code red e abbiamo avuto grazie per la visione prof. Bozzori first Siaka, now you perché non mi non mi prendere una paura magari tu hai chiesto o magari se hai comportato o magari se hai comportato in una forma più appropriata per le circostanze e le nostre situazioni allora dovresti capire perché tutti sono così nervosi Siaka ha avuto il mio cuore ero dovrei lasciare gli nervi sui me? No, scusate non è come funziona Bizzori Dobbiamo tutti rimanere calmi e accettare quali aiutare che possiamo ottenere anche da delle più semplici è sorprendente come da un sangue almeno hai sicurezza come da una più solida che una profesi di un bambino di Malkov non sai cosa stai parlando qui in un caos ma sei sicuro è solo Hazel e la sua flair solo il tempo come da un'esercizio come da un'esercizio coscienza che ti permette di lavorare in un incontro che ti permette di lavorare in un incontro un'esercizio un'esercizio quindi investiamo i punti allora questo 2 sono sono non 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 sono un'esercizio che posso fare per te sono che sei è stato un'esercizio non è stato un'esercizio non è stato un'esercizio ci sono dove sei tu stai come tutti altri a casa si sei che sei che sei sei che che hai un'esercizio questo è inolito questi i 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 Voi conosci tutti che è in là. Beryl, Richard, Hilda. Suo supporto era molto appreciato dopo la disapare del previato prezzi. Quentin King. Ma ora, sono diventati un obiettivo. È stato avuto per mesi. Sono sistematicamente opposte tutto quello che faccio. È dovuto stoprire ora. Incidentiali. La Camarilla ha avuto molti problemi negli ultimi anni. Molti nostri forti sono fatti. Non mi lascio a Boston soffrire il stesso fate. Ma per questo, ho bisogno di amici. E anche... Come ti piacerebbe un posto nel Primogen? Mi... Uh... Cosa? Tu hai sempre portato a tua comunità, M.M. Sembra mai chiesto per qualcosa in return. Cosa è la volta che hai fatto un lavoro di amici in la comunità. Hilda non ti lascia di farlo. Lei non mi farà mai come la sua amica. La mia sceglia al prossimo al suo figlio? Lei si sente humiliato. Sono il prezzi. Lei mi obiettivo. Lei non mi piace. Non mi importa. Lo che mi offre è molto più grande di tutto quello. Cosa credi? no vabbè dai do it you won't be able to hunt tonight it's better to be prepared bring me journey i will i have the utmost confidence in you mm do not fail me you can count on me what the hell is going on mm i'm happy to see you in one piece hey so i'd like some refreshment please of course i'll get you a glass i was thinking more like a vessel oh serve yourself but try not to damage them okay they're all i've got left in stock i get it i'll be careful i'm right here if you need anything else caccia la zona protetta è un luogo dove nessuno può vederti mentre ti nutri puoi trovare e spare i luoghi solo una preda alla volta può essere inviata in una zona protetta con la zona protetta questa pensa sia protetta no si la preda si rivela naturalmente a te quando le avvicini penulti ti dovrai trovare una zona protetta nella quale attivare la tua preda circa quasi circondata dalla zona d'arte sembrani mandare la tua preda in una zona protetta mentre al sospetto nei tuoi confronti no come on it won't take long going I vampiri sono andato potenti per affascinare o sottomettere le loro prede, soddisfare la loro fame. I mortali saranno su chi vive mentre i vampiri dubiteranno la tua... vabbè. Il sospetto ha un impatto sulla difficoltà del gioco. Più aumenta, più i tuoi avversari saranno abili. Alcune pietre del sangue emotivamente carico possiede una risonanza che il tuo personaggio acquisirà dopo essersi nutrito. Alla fine di una scena una risonanza fornisce un bonus di esperienza per la corrispondente disciplina, madonna santa! Ok, quindi dobbiamo fare la porta giù nella vicina. Siamo sempre figati. Potenza ai cinque sensi. Questa connessione rivela nuove interazioni. rivela profumi, ascoltare la copiazione a distanza, arrivare al passaggio agli oggetti, vabbè. In alto? No. In traccia. Ok. Che cavolo sta? E' uscita, si. Per questo qualcosa, per essere un po' più veloci, però, eh. che senti padre? Sta al bagno? No. Quanti vedete che serve? Per lo greco, gli archivi. No, no. Serratura. Agile restratura. Passa a destra, non ce l'ho. Che ci sta qua? Adesso è blu. In traccia. Buonasera. Anzi, guarda il più veloce, sta qua dentro, sta. Occhio. C'è qualcosa qua dentro? Agile. Ah, bisogna del tuo aiuto. Incontriamoci appena fuori, appena pui, in un'alcova. Ok. Un'intermi del genere del tavolo a fa' un po' trempio, non c'è il spfilo. L'intermiore di 13e, era distrutta. L'intermiore di 13e. Sembra la quale che trovavi ad ogni peggio. L'intermiore di 13e. Magina che abbiamo trovato strappata Che cavolo sta Qua siamo già usciti Non la trovo questa Ho difficoltà a trovarla Vediamo un pochettino Qua non c'è niente Consulta Ok, fantastico Questa è quella che abbiamo trovato Non lo so Adesso non beve luce Aspetta, forse qua dietro c'è qualcosa Mantenimento, messaggio Un'alcova del bar Ok, quindi Marco vai al bar Siamo già stati Vediamo se la trovo qua Allora, vabbè Qua si entra No, qua ci siamo già stati Vediamo No Non, non puoi andare qui Non puoi andare qui Non puoi andare qui È iniziato Oh, bravo La mia shadow L'alcova L'alcova che fosse da l'alcova Non puoi essere da l'alcova niente specifiche, davvero, credo che lei è davvero incontrata Hazel? incontrata? stai scendendo qualcosa da me M.M., ora non è il momento per i giocatori, questo è vero ok, ok, lei mi ha chiesto di andare a guadagnarci ah quindi, pensi che questo va diventare anche? come è Hazel? she asked a lot of questions, but she was a little paranoid she's losing her grip, be careful why are you telling me this? this is the first time you've ever been involved in a court intrigue up until this instant, I've handled things for you and that was fine by me if the prince is under pressure, choose your words carefully I hate the court, I've gotta go, I've got stuff to do sicuramente, ma non è che posso potenziare qualche altra cosa aspettate un attimo magari forse discipline e talenti è venuta lenti, ok, i tratti un momento, eh personaggio, perché no, neanche di qua no vediamo un po' non la riesco a trovare ah, si è aperto un'altra cosa, ok allora forse l'ho trovata, eh non c'è ritorno non si può tornare indietro vabbò sta qua dentro, penso provata provata avanti a brutta in un po' Sto cercando evidenza. Vedo che Jara aveva il file sul partito. Ha tutti i contratti e cose che provano che ho fatto il mio lavoro certo. Ma non posso trovare. Era il mio solo scopo per proteggere la mia. Ho fatto tutto certo, mamma. Io ero la persona che rienta il posto. Lo stesso come sempre. Rooftop, fuori dal pronti. Ho incontrato con Richard per organizzare i voli. Ho rientro di limos per essere senti per l'Hartford Chantry. Ho passato la stessa agenza di limos sicure come sempre. Ci sono i nostri, quindi non c'è rischio. Cosa potrebbe essere fatto? Non lo so. Ma non c'è tempo per pensare. Hazel vuoi te vedere. E lei te ha chiesto? Scusate. In verità, in verità, ti dovresti andare fuori. Eh... Cosa? Cosa ti parli? Cosa ti parli? L'attuale confronto potrei combattere per cominciare altre persone recitate di un confronto ha un impatto sulle questioni della storia. Vabbè. I can't just run away do you know something I don't la corte frappressione su asia vada per lo qua every day still she calls the shots she can take the pressure jay you should listen to me I know the court better than you do let's say Hazel doesn't want to hurt you others could change her mind who would honestly who would stand to gain something from my death look I'm sorry but actually Hilda could benefit from this what what the hell did I ever do to her nothing but she's never liked me spending time with you ok abbiamo vinto what a witch yeah she can be a bit of a bitch sometimes if I run people will think I'm guilty and that I want to leave the Camarilla but you can't leave the Camarilla yes we can I know people who can help you anarchs don't underestimate them they've held out against the camp for a long time now do you realize what it would mean to really run away I just know what's gonna happen to you if you stay here but if I leave they'll call for a blood hunt attenzione gli archivi vengeranno sempre meglio you have to believe me about the anarchs I know you're a leader Saul I've seen her help people in situations like yours it's your only chance I could stay and be destroyed listen to me Saul can help you you can do this I how do I go about this where do I go I'll go back to see the prince that'll buy you some time don't waste a second don't go back to your office you have to disappear right now but what about you what are you going to say you're risking everything for me don't worry Hazel has nothing on me you're going to the anarchs I'm going to contact Saul she'll come and get you at the club in Roxbury is it just me or is this not the first time you've done this I don't think we've got time for that you're right we're doing this sperando che non ci becchino però leggente stabile dalla follia? ok anche qua dobbiamo scegliere vederano versate l'investigatore facciamo libero qua dai sempre quello che possiamo potenziare 130 punti trazione vabbè ragazzi io penso che questa parte la possiamo terminare qui non saprei vabbè comunque se mi fa piacere magari possiamo sempre andare avanti ci vediamo nel prossimo video vai ciao ciao